Buongiorno, all'entrata del canale di San Antonio davanti a Sibenik sta questa bellissima fortezza di San Nicolò, oggi patrimonio di Unesco, è stata costruita a 1540 quando gli ottomani presero la città di Skradin. Sibenik però, una città dal undicesimo secolo, è stata fondata dal re croato Kreshmir IV. Splendide opere ce ne sono in città, un legame fortissimo tra la fortezza di San Michele e la città e ce n'è un sigillo della città che ne parla. La cattedrale è un'opera unica, anche la cattedrale come la fortezza è un patrimonio dell'UNESCO. La cattedrale, stile gotico fiorito e rinascimentale, parla di un'opera d'architettura altissima. Le altre opere ci invitano anche queste da vedere e venire.